Mr. Brella, siamo arrivati proprio agli sgocci oramai. Due partite, che partite saranno? A cominciare da domenica, il Cesena avrà negli occhi l'1-3 di qualche settimana fa, il Latina avrà negli occhi il 3-1 oppure bisogna risettare tutto? Dobbiamo risettare tutto perché i play-off sono partite completamente diverse. Quel risultato a noi è servito per prendere ancora di più fiducia e convinzione, ma non deve essere un letto con superficialità e ci aspetterà una squadra che vuole a tutti i costi fare risultato, che vuole anche far dimenticare quel tipo di partita e quindi noi dobbiamo essere bravi a non concedere niente, soprattutto in questo tipo di letture e fare la partita giusta. Mancherà Bruno. Si dice, si pensa, un sostituto, tutti quanti il nome che corre, quello che poi è stata la svolta in più nelle ultime partite, l'A di B. Non è il caso forse che Mr. Brella ci ha in animo di far entrare invece Morrone? Ho fatto un nome, però da punto di vista tattico è più importante mettere un giocatore che ti può dare il cambio di ritmo a partita in oltrato o metterlo dall'inizio? Così è più lungo. Ci penseremo, vediamo un attimo perché ancora non ho certezza, anche perché oggi è servita come abbiamo fatto allenamento, stiamo recuperando e le letture da fare tra partita sono ancora diverse dove vengono coinvolti più aspetti contemporaneamente, certamente questi, più o anche altri e da lì poi vedremo, speriamo di fare le scelte giuste. Ti aspettavi il Cesena tra Modena e il Cesena all'inizio? Beh, un segnale l'aveva già dato l'ultimo del campionato perché è andato a Modena e non aveva perso il Cesena e quindi sapevo che poteva succedere di tutto. Poi il pensamento migliore ce l'ha avuto il campionato il Cesena, anche se Modena veniva da un giorno di ritorno molto molto importante. Poi è anche difficile da giudizi perché credo che tutte le quattro squadre semifinaliste potenzialmente possono o potevano per due vincere i play-off. Poi per vincermi si vogliono anche tante altre situazioni come gli episodi, come tante cose che insomma poi dopo bisogna vedere in che senso vanno e è a favore di chi vanno. Senti, a Cesena il loro evidente abbiamo gli offerto molto molto. L'Alessandro è stato un po' più incidioso. Innanzitutto a Lassan come sta. Potrebbe essere lui il giocatore da De Mere maggiormente? Loro hanno davanti più giocatori di qualità perché Marilungo a qualità e a personalità. La dimostrazione di ciò è il fatto che in tutte e due le partite semifinali ha segnato. Marilungo, De Frel, ne hanno bellissime alternative davanti. Noi conosciamo le loro caratteristiche come le loro conoscono le nostre. Poi le partite sono frutto appunto di tante cose. Noi dobbiamo essere bravi a limitare le loro qualità e provare a mettere in risalto quei che possono essere loro difetti. L'Alessandro è un giocatore che ha messo difficoltà forse tutte le squadre che ha incontrato fino adesso, però anche noi abbiamo qualche giocatore che può far molto bene. Sono tanti si è diffidati con la finale di andata o ci stanno la norma dopo due gare di playoff? Anche quelle sono situazioni che ci stanno e bisogna solo pensare a giocare. Con le stesse letture dell'altra volta, con tranquillità, intanto in campo si va in 11. Poi se succede che qualcosa manca, ci penseremo ai prossimi giorni. Avete fatto, secondo te, il San Nicola vi ha consentito di fare le prove generali? Perché pure il Manu sia uno stadio bello caldo, insomma. Sì, ma poi siamo stati ultimamente anche in campionato. Una partita molto importante perché loro si giocavano a quello secondo posto e noi eravamo subito sotto. Quindi non è che era una partita scontata, anzi, sia dal punto di vista del pubblico sia dal punto di vista delle due squadre in campo. Domani saranno ancora di più, questi spetti saranno ancora più messi in risalto. Però, insomma, come con il San Nicola, la partita la giocano chi va in campo. Il resto fa, perché fa, ma non è così determinante come l'atteggiamento dei giocatori. Il Cesena a maggio cercava la vittoria per il secondo posto. Oggi la cerca perché il regolamento la sfavorisce. Può essere alla stessa maniera il vantaggio che poi avete sfruttato? Per adesso sì, però è un per adesso che magari la prima partita viene perso. Cioè, è un piccolo vantaggio, ma io credo che in questo momento tutte le due squadre hanno la stessa possibilità di centrare l'obiettivo finale. Poi dopo la prima partita vedremo forse qualche cosa cambierà nei percentuali. ma per la prima gara credo che siano molto semplici per tutte le due. Polucci, come stanno? Bene, vieni via con il gruppo. Bene, sta sagre che è il gruppo. Comunque ha iniziato a lavorare con quella squadra. Magari per fare spogliatoio? No, no, no. Vai in banchino. Quindi, dall'altra serata, mi porta a tenere i tuoi scacchi, diciamo, dovuti all'aspetto, all'aspetto, allo spresso fisico della partita? Si manca ancora tu mai. Eh, no, 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 eh. Quindi rispetto alle ultime interviste abbiamo un allenamento in più da affrontare. Per adesso sì. Infatti, poco fa hai detto domani affronteremo invece. Non è sabato. Non è... Non è... Non è... Tu sei un tipo tranquillissimo, non fai da spiegare le emozioni. Il gruppo come sta? E poi se è un tipo da... Comunque vada, è stato un successo, non è un successo, o dobbiamo vincere? No. Comunque vada, è un successo, non rientra nelle mie... Non è un successo. Non sono... Un po'... Decoberden... L'importante è vincere. Proprio in maniera più assoluta. Quindi tu hai detto ai ragazzi, dobbiamo vincere. No, dobbiamo vincere. A me non piace come espressione perché è poco rispettosa degli avversari e dà difficoltà degli episodi, ma sempre, anche se devo fare una amichevole con la squadretta. Perché dobbiamo non esiste in questo mese di lavoro. Cioè dobbiamo... Puoi farlo... Quando c'è proprio una scienza matematica, uno più uno fa due. Allora non devi sbagliare i calcoli. Ma con noi... Insomma, i calcoli sono molto variabili e quindi non esiste un dobbiamo. Esiste una grande opportunità che non è capitata. Cioè anche la parola opportunità non mi piace. Perché non mi piace? Perché sembra che sia capitata per caso. E invece ce la siamo voluta e ce la siamo andata a prendere da settembre e da chi c'era prima, da luglio fino ad ora con tutte le nostre forze e volontà. Quindi non è un'opportunità. È una... Un obiettivo che avevamo, che abbiamo coltivato nel tempo, che è cresciuto di volta in volta, che adesso... In questo momento ci crediamo ancora di più. D'oggi che poi ci sono le solite variabili. Parlo della partita col Bari, del doppio turno. Potremmo passare anche il Bari. È stata talmente equilibrata che una virgola sposta... sposta il risultato. Però è anche vero che noi nella stagione abbiamo fatto cose meglio degli altri. Perché ci siamo arrivati terzi. Vuol dire che un piccolo vantaggio ce lo siamo meritati. E ai tempi miei, quando giocavo, fino alla quarta eravamo direttamente in Serie A. e quindi vuol dire... Appunto se io allenavo dieci anni fa avrei una condizione sicura. Però mi va bene così. Noi sono andato a meno a meno. E che da là, insomma, c'è da fare questa... questa ultima... Ci sono andato a affrontare queste ultime due sfide e speriamo di far bene. Mestre, una curiosità. Un allenatore si accorge quando un giocatore ha un carico emotivo troppo importante che rischia magari di toppare la partita. Prima è difficile perché la stessa atteggiamento a volte porta a prestazioni ottime e a volte porta a prestazioni magari meno positive. Quindi fai fatica a leggerlo. Come io so dell'idea che continuamente ci puoi lavorare nell'atteggiamento e anche in corso d'opera a volte lo puoi cambiare. Si tratta sempre di personalità. Mi accoppio a quello che ha detto lui. Secondo te sentirà di più, potrebbe sentire di più, la partita? Un giocatore anziano che vuole chiudere, tra virgolette, non parlo di nomi particolari, bene la sua carriera o uno giovane che invece vuole aggiungere qualcosa di importante alla sua carriera appena all'inizio? Io penso che la lettura sia sempre la stessa che ho detto io prima. Cioè non è che uno vuole chiudere la carriera, uno vuole vincere, giovane e vede. Sì, però la tendenza ti senti di più... Non so se è un discorso di età o anche più di caratteristiche, però questo gruppo qua ha sempre dimostrato di non soffrire le pressioni, soprattutto quelle dovute da campo. E quindi credo che per forza di cose anche questa cosa. Poi ci sono gli avversari, come sempre, ci sono le difficoltà che ti creano loro, ci sono le aspetti anche imponderabili che possono rinforare l'ultimo o il secondo, però non è un aspetto che mi spaventa di questo gruppo. Del nostro gruppo. Mister, da Cesena a voi per classifica, insomma, per fattore campo, o voi per trascorsi del campionato auspicavano di incontrare il Bari. Se lei avessero dovuto scegliere, insomma, adesso ormai è nato, è finita, si sono incontrate, chi avrebbe scelto? non mi piace neanche fare questa considerazione perché sono molto fatalista, chi devo beccare, becco. Ho detto prima, secondo me, tutte e quattro le squadre potevano potenzialmente vincere i play-off. E quindi, siamo tutte le squadre che hanno caratteristiche diverse, però tutte forti. sono quelle che hanno fatto vedere le cose migliori e quindi, credo che, insomma, può capitare di tutto e contro di tutti. Le due temi fiali hanno dimostrato che chi ha giocato anche il turno primario in qualcosina ha lasciato in termini di energie. Ci possiamo aspettare due partite leggermente più scariche? Latina-Bari, insomma, a 200 euro dall'inizio alla fine. Beh, quello è un aspetto che va preso in considerazione e che coinvolge, in ogni caso, le squadre nel suo insieme perché, siamo stanchi noi o almeno siamo ugualmente stanchi o in forma sia noi che il Cesena, dove hanno giocato un paio d'olio prima. Insomma, che cambia chissà che cosa. Ora ci sarà temperatura più fresca, domenica. Forse piove, dire, sì. Ma il caldo piaceva. Bello abbronzato, vero? Ai giocatori mi si chiede se è il caldo. Mi piaceva come squadra, a me piace. Senti, ho detto una cosa bellissima, Alberti, dice che comunque non è finita la stagione madre, ma è iniziata a venire in una nuova era per il Bari. Si sente di dire la stessa cosa sulla Dina, a prescindere da quello che succede domani? loro vengono da una stagione dove rischia di sparire nonostante il potenziale sia tecnico sia ambientale che mi hanno impressionato. Quindi è logico che passi da un incubo a un sogno. L'osservazione da un'intelligente che fa Alberti che in ogni caso l'incubo è andato via e le aspettative per il futuro sono ottime. La nostra lettura è diversa ma credo che sia la lettura non mia di ogni allenatore io sono stato anche come Alberti perché con la Serenitana ho avuto quel tipo di situazione. Noi pensiamo adesso ma come penso Bisoli e come perché? Perché ogni stagione è frutto di mille cose dove magari c'è la squadra anche più forte però non è detto che riesci a fare lo stesso campionato secondo me quest'anno ci sono state delle squadre come Brescia come Siena come Pescara che hanno dei potenziali da Serie A per mille aspetti non sono riusciti a centrare l'obiettivo quindi ma non mica perché hanno lavorato male perché vuoi infortuni vuoi vuoi il fatto anche tante volte e quindi da là bisogna secondo me chiudere l'anno poi ogni anno una storia di Serie si riparte perché poi dopo rimescoli un pochino tutto quanto anche il Bari stesso lui ha fatto un'espressione ma poi bisogna vedere che squadra sarà fatta più di tante cose lui ha fatto un discorso proprio credo legato al fatto che esiste un potenziale che non è andato sprecato